Ciao Raffaello. Ciao Beto, sono riuscito, incredibile. Come ha cominciato in questa vita? Perché non lavorava sempre con vino. Come ha cominciato tutto? È cominciato perché io, sì, è vero, facevo un altro lavoro. Diciamo che io, come formazione, sono agronomo e ho lavorato per molti anni in un laboratorio e mi sono interessato di microbiologia degli alimenti. Nel frattempo ero, diciamo, innamorato del vino, delle vigne, ma in realtà non avevo mai avuto la possibilità di lavorarci. Quindi ero un comune bevitore, un po' come tutti. A un certo punto, quando eravamo, diciamo, giovani, molto giovani, con mia moglie e i nostri figli erano molto molto piccoli, abbiamo deciso di trovare un posto in campagna dove poter passare in fine settimana. E con possibilmente, se c'era la possibilità con delle vigne da poter curare. Beh, questo l'abbiamo cercato per molto tempo, l'abbiamo trovato e inizialmente, appunto, quindi andavamo in fine settimana con i bambini piccoli per fargli respirare un po' di aria buona. Io sono un napoletano di origine, quindi vicino Napoli era per noi molto comune. Abbiamo trovato questo posto con questo casolare in pietra, in tuffo grigio, che è proprio il tuffo, la roccia vulcanica della zona, e con la vista che tu hai visto quando sei venuto a trovarmi, mi sono innamorato di quel posto. A poco la volta, diciamo, cresceva a me l'inquietudine di lavorare in una grossa azienda alimentare, proprio perché mi ponevo molte domande e molti dubbi sul modo di fare cibo, sul modo di fare cultura del cibo. A un certo punto sono entrato un po' in attrito con tutta la, diciamo, la dirigenza e ho deciso di cambiare vita. Sono quelle cose un po' folli, un po' pazze e ho iniziato a gestire io direttamente le vigne, ho ripreso la vecchia cantina che era di un vecchio contadino della zona e niente, e così ho iniziato a fare il vino. E questo con la uva e Agostinella? È interessante anche questo. Perché ha cominciato a lavorare con una uva che non aveva più? Sì, Agostinella è una di quelle che ho iniziato a lavorarci dopo, però io una delle prime cose che ho fatto quando sono arrivato in quel luogo è soprattutto girare, mi sono, diciamo, girare per le cantine dei contadini, perché volevo capire la cultura del luogo, che cosa significava, che cosa ha significato per loro il rapporto con la terra, cioè la dimensione sociale e culturale dell'agricoltura, mi interessava molto. E quindi mi interessava molto il discorso degli autocotoni, degli autocotoni minori, degli autocotoni di quel posto, di quella zona. E quindi ho girato per vecchie, per tutte le cantine dei contadini, assaggiavo i vini, volevo sentire le loro storie, assaggiando i contadini. E ho assaggiato e gli chiedevo di assaggiare tutte le cose che loro mettevano da parte, le vecchie varietà che loro avevano e se le facevano ancora. Tra queste mi hanno fatto assaggiare l'Agostinella ed è stato, anzi, forse il primo vino che ho assaggiato dalla botte di un contadino che mi ha affolgorato. E io ho mantenuto le vigne così com'erano e così com'erano gestite dai vecchi contadini, che erano le vigne miste, con le varietà autocotone dell'epoca, non le ho volute cambiare con le varietà più in voga, più conosciute del Beneventale. Le vigne miste sono vigne impiantate tutte insieme? Sono vigne impiantate tutte insieme. I vecchi contadini erano molto saggi, perché loro sapevano che piantare più vigne, non utilizzare, diciamo una monocultura anche in vigna, ma utilizzare vigne miste significava un maggior adattamento all'ambiente, un maggior adattamento alle avversità, che sia il clima, che siano gli agenti patogeni, che sia... e in modo tale che loro riuscivano sempre a raccogliere qualcosa, no? Loro ci hanno insegnato che la diversità genetica è la base della vita per poter adattarsi all'ambiente. È vero che questo lo diceva già, anzi, lo dicevano in molti, fra cui Darwin ce l'ha insegnato in maniera incredibile. Lui non diceva che... sull'evoluzione non diceva che sia il migliore che va avanti, perché il migliore non significa nulla, non esiste, non ha nessun significato, ma è il più adatto. Il più adatto significa quello che è capace di cooperare col mondo che lo circonda, quello che è capace di creare interconnessioni col mondo che lo circonda. ecco, la diversità genetica ti permette di fare questo, di avere un adattamento maggiore alle avversità del mondo, fondamentalmente. Raffaello, e perché questo lavoro senza suffici, senza chimiche, senza niente? Come si fa questo? Si può fare, si impara, si impara a farlo dalla terra, fondamentalmente. Allora, noi abbiamo, diciamo, io ho fatto un percorso, diciamo, a curare la vigna, l'agricoltura, ci sono arrivato attraverso i libri, perché io lavoravo in laboratorio e quindi era il mio modo, il mio approccio al mondo vivente. In realtà, quindi, ci sono arrivato sui testi di biologia, di enologia, eccetera. Quando ho iniziato a lavorare direttamente le vigne e quando ho iniziato a fare vino in cantina, ho strappato esattamente quei protocolli che mi ero scritto dai testi di libri, eccetera, e ho iniziato a osservare, a guardare, a capire. E in realtà quello che capisci, osservando la terra, osservando gli ecosistemi, perché è di questo che dobbiamo parlare, ho iniziato a capire che lì c'è un mondo. C'è un mondo che funziona benissimo se è in equilibrio, se le cose sono in equilibrio. Ma c'è una complessità di quel mondo che noi dobbiamo capire, comprendere e con quel mondo ci dobbiamo lavorare insieme. E questo è un punto fondamentale. Dobbiamo lavorare insieme ai microrganismi che sono nella terra, quindi alla fauna e la flora della terra. Dobbiamo lavorare insieme alle piante, dobbiamo lavorare insieme al bosco che c'è vicino e al fiume che c'è vicino. Sono tutte delle componenti interconnesse. Diciamo che il cibo e il vino sano che ci nutre e che ha gusto, che ha sapore e figlio della complessità. Per non avere problema, quello che usi per non soffrire di problemi indignati? Allora sì, io poi diciamo inizialmente usavo zolfo e rame. Poi ho iniziato a utilizzare delle erbe spontanee stesse che crescevano nella vigna. Io praticamente ho iniziato a sperimentare e quindi ho provato alcune erbe su cui c'erano dei dati, delle indicazioni molto generiche e purtroppo diciamo che la bibliografia scientifica ti dà pochi dati, ti dà molti dati sui farmaci e pochissimi dati sulla natura. E quindi ho iniziato a raccogliere queste erbe che sono equiseto, ortica, ce ne sono anche altre. Queste due sono un po' le basi. Le uso come infusi o macerati e fermentati in acqua e dopodiché dopo questa macerazione e fermentazione si prendono, si filtrano con un panno grossolano e si trattano le vigne. Oltre ad utilizzare queste erbe prese direttamente dalla vigna, perché è importante che siano prese in luoghi dove non ci sono trattamenti chimici, questo è molto importante, utilizzo della propoli, la propoli grezza. Propoli grezza che mi faccio dare direttamente da alcuni apicoltori che sono vicino a me. La propoli ha delle doti eccezionali perché diciamo previene e cura anche entrambe le cose, sia i macerati di erbe che la propoli, diciamo che fondamentalmente stimolano le difese delle piante, sollecitano le piante a difendersi meglio, ma non uccidono nulla. Questo è molto importante perché si deve mantenere tutto l'equilibrio, cioè la fauna e la flora del luogo deve rimanere perché il pericolo più… e quindi in questo modo le piante si difendono da sé, diventano forti. La differenza sostanziale con i pesticidi è che le piante si indeboliscono e quindi diventano sempre più schiave del farmaco per potersi difendere, perché non hanno più altre difese. I sostentori della chimica, dei vini convenzionali, affermano che l'umanità sarebbe a corto di cibo, perché se tutti i piantaccioni fossero organiche. È vero questo? No, assolutamente no. Questo è stato, diciamo, un dogma. L'agroindustria ha utilizzato sempre questo dogma dicendo che nutrivano il mondo. E questo non è vero perché abbiamo poco più ancora di 800 milioni di persone che muoiono di fame. E abbiamo più di un miliardo, se non sbaglio, sono due miliardi di persone obese e quindi che mangiano male, che si gonfiano, che mangiano male. Se pensi, Beto, che l'Unione Europea, per esempio, importa gran parte del cibo di cui ha bisogno. Anche quello che produce lei stessa lì importa. E se pensi che l'unico cibo in eccedenza che ha sono i cereali, la cerealicoltura. Ma questo cibo in eccedenza non ci serve per noi, per la nutrizione, perché le rese di queste varietà che sono state selezionate negli anni sono talmente alte che è un cibo che dà una farina che non panifica neanche. E quindi il 60 per cento di queste colture, proprio per queste alte rese, per la scarsa qualità del cereale che produce, non servono per la nostra nutrizione. Va agli animali, tranquillamente. E quindi importiamo anche i cereali nell'Unione Europea che produciamo in eccedenza. Abbiamo creato un sistema che ha creato carestie e ha creato fame. E questo non va bene. Dobbiamo ridare. Noi ci troviamo, secondo me, sotto un… possiamo fare, diciamo, due cose, distruggere o costruire. Distruggere è molto facile, lo può fare chiunque. E costruire è più difficile, perché costruire significa prendersi cura. E' un lavoro lento, graduale, come prendersi cura di un figlio, no? Devi aspettare che cresce, che fa le sue cose, che faccia le sue scelte. Tu gli devi stare là, dietro, curarlo, eccetera. Ecco, quindi progettare, progettare, guardare al futuro. C'è un detto indiano molto bello che dice noi non prendiamo, non ereditiamo la terra dei nostri padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. Perché noi dobbiamo guardare lontano. Fino agli anni sessanta praticamente non esistevamo prodotti chimici. Si aveva i vini, si aveva tutto. Perché seguiamo questo percorso? Beh, diciamo che per millenni l'agricoltura è stata un'agricoltura naturale, possiamo dire, dove l'agricoltore, il contadino aveva una dimensione appunto sociale e culturale. Nel dopoguerra, diciamo, nel dopoguerra c'è stato un cambiamento radicale, no? C'è stato, diciamo, le industrie belliche che avevano molti, 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 molti residui della loro materia prima per fare le bombe, per fare, per fare pallottole e quindi non sapevano come utilizzarle. e quindi per l'idea che hanno avuto, geniale oserei dire, è quella di trasformare questi prodotti dell'industria bellica in concimi, in anticrittogamici, in insetticidi, in diserbanti. E quindi questo è molto importante per capire l'origine di questo tipo di agricoltura, che è un'agricoltura che viene dall'industria bellica e che ha continuato in maniera forte, ha convinto tutti i contadini, gli agricoltori purtroppo, a utilizzarla. e questo, diciamo, ha devastato un po' il nostro, non ha mantenuto sicuramente le promesse di nutrire il mondo di quello che, appunto, quello che ci aveva in realtà promesso, insomma. Sì, è vero. E pensi che la connessione dell'uomo e la terra sia rotta? Sicuramente in tutti questi anni si è rotto qualcosa, sicuramente. Abbiamo desertificato, abbiamo disboscato, c'è erosione del suolo che è fortissima. Abbiamo un cattivo cibo, un cattivo cibo che non ci nutre. Ti faccio un semplice esempio, la fertilità naturale. Le piante hanno delle capacità incredibili, no? Lavorano in un ecosistema in cui ci sono microrganismi, in cui ci sono flora, quindi insetti, batteri, lieviti, funghi. Ed è un mondo che lavora tutto insieme. È un mondo estremamente complesso. Come dicevamo prima, il cibo buono, il cibo che ci dà gusto, gioia, felicità, è figlio di questa complessità. E questi lavorano tutti in, c'è un'interconnessione con questo, no? Allora noi quello che avremmo dovuto fare è sostenere questa fertilità naturale. Sostenere questa fertilità naturale. Ricordo che, diciamo, i combustibili fossili, abbiamo sostituito questa fertilità naturale con i combustibili fossili, per esempio, no? Se consideriamo che per produrre un pesticido, un concime, eccetera, ci vogliono circa una dozzina di calorie per produrre una calorie di cibo. Non c'è, diciamo, costi-benefici, non c'è paragone. Se noi consideriamo che da un seme abbiamo una pianta, e una pianta può produrre cento semi, soltanto con l'energia del sole gratuita e con i sali recuperati dalla terra. E la pianta fa un'altra cosa, a differenza di un'agricoltura che viene dai combustibili fossili, che restituisce alla terra tutto quello che si è preso. E questo è una cosa fantastica e magica, oserei dire. E i cambiamenti climatici? Abbiamo ancora tempo per invertire questo? Il tempo è poco. Io penso che il tempo sia poco, ci vuole un cambiamento di responsabilità. E soprattutto ci vuole un cambiamento, dobbiamo pensare ad un'economia, non del denaro, ma un'economia della natura e un'economia della terra. Che si arricchiranno nel tempo, se pensiamo a queste cose. Da sole si arricchiranno. E per fare questo dobbiamo progettare, dobbiamo pensare a qual è un progetto. Ci dobbiamo, come dicevamo prima, prenderci cura delle piante, della terra. Dobbiamo far uscire quella fertilità naturale della terra. Appunto, prima dicevamo, siamo un po' di fronte a un bivio, distruggere o costruire. Distruggere è facilissimo, lo sa fare chiunque. E costruire che ci vuole una progettualità, no? Un boscaiolo, quando va a raccogliere la legna, non pensa a quello che si porta a casa in quel momento, ma pensa soprattutto a quello che lascia per il futuro. Ecco, questo è un progetto per il futuro. Ha rinunciato della denominazione di origine, no? Non ha denominazione di origine. Perché? Io, sì, ho, diciamo, i miei vini, la mia vigna, ho declassato la denominazione, diciamo, dalle doc a IGT. Perché penso che hanno bisogno, queste denominazioni sono anacronistiche, sono un po' fuori tempo. Hanno bisogno di una nuova regolamentazione e soprattutto hanno bisogno di far capire a chi beve, al consumatore, da dove viene, cioè da dove viene quel vino, su quale terra, su quale caratteristiche geologiche, su quale... deve uscire il territorio, il terroir. Il territorio è molto importante. Nelle denominazioni di origine dovrebbero... si dovrebbe parlare di questi temi e di queste cose anche per permettere al consumatore di capire meglio che tipo di vino sta bevendo, da dove proviene e quindi da quale territorio geologicamente e biologicamente da dove proviene. Marcello Vasco fa una domanda che è... ha visto il documentario che ho fatto con te, Bella Ciao, e ha visto che il vino Bella Ciao con Agostinella ha un colore chiaro rispetto ad altri vini che sono... che allacciano il mosto a contatto con la buccia. Sì, perché... allora, diciamo nonostante la Agostinella, sì, è vero, fa macerazione sulle bucce, però la Agostinella è un vitigno che non... non rilascia molto colore, cioè mantiene molto bene, diciamo, le... anche le... mantiene sempre un colore chiaro. E considera che, per esempio, sulla Agostinella io faccio durante l'affinamento anche i diversi batonnage. I batonnage sono, diciamo, il rimescolamento del vino con le proprie fecce, con i propri lieviti, che tutelano e proteggono il vino. Però una caratteristica della Agostinella è quella di avere anche una... una bassa ossidazione, quindi non... mantiene sempre di più rispetto agli altri vini un colore chiaro e non... e tende a ossidarsi più lentamente. E questo di non usare botti di rovede? Usa botti di ciliegio? Sì, io uso botti di ciliegio, castagno e acacia, che ci siamo fatti fare da un vecchio bottaglio che sta sempre in Campania, molto bravo, con dei nostri legni. E questo mi piaceva molto, perché... sia perché sono i legni che utilizzavano i vecchi contadini, perché erano delle culture all'epoca molto, molto, molto il castagno, il ciliegio e l'acacia, ci sono molte acacie spontanee nella zona, sono legni molto presenti nella nostra zona. E i vecchi contadini utilizzavano quei tipi di legni. E anche per dare più forza al territorio. Il rovere per noi è abbastanza estraneo. Utilizzare dei legni nostri fatti fare da un bottaglio campano ci sembrava di contribuire al discorso proprio del territorio. È una delle tante componenti del territorio. Ci sono vignetti che producono uno cattivo odore di batteri, gli altri che no. Perché questo? Allora, fondamentalmente c'è una differenza tra il modo di condurre il vigneto. Il vigneto che viene condotto cercando di nutrire la terra con la propria fertilità naturale, cioè di mettere in risalto la fertilità naturale non è sicuramente un vigneto che ha cattivi odori. Anzi, un vigneto chimico è invece un vigneto che è sicuramente un vigneto morto e che ha bisogno di una chimica per vivere e in quelle circostanze si possono creare le condizioni perché il vigneto abbia anche cattivi odori. Quello che dobbiamo, diciamo, riscoprire, secondo me, come consumatori è il gusto vero del cibo e il gusto vero del vino che è molto diverso dal gusto dei prodotti industriali che sono purtroppo in maggioranza. E questo è un cambiamento che noi stessi dobbiamo fare. E voi, che ha rinunciato alla denominazione di origine, crede che il tuo vino è più originale, più rispetto a Terroir che gli altri vini della denominazione di origine? Beh, sicuramente, sicuramente. Noi abbiamo bisogno di prodotti di territorio e dobbiamo fare di tutto per far entrare quel territorio nella bottiglia. E quindi necessariamente a me non importano le denominazioni se non si parla di un'agricoltura sana, di una terra fertile, di cibo e di vino sano. Questo per me è fondamentale. E il miglior vino è il vino che lavora con la terra e non contro di essa. Dovim Prattadu, Glaucia fa una domanda. Quanti ettari di vignetti avete? Io ho 4 ettari. 4 ettari. I prodotti di bottiglie? Quanti bottiglie? Bottiglie siamo in media intorno alle 15.000. Con tutta la tua conoscenza dei microrganismi, cosa pensi di questa pandemia, urcendo così tante persone in tutto il mondo? Sì, penso che è un qualcosa che ci deve far riflettere molto, ci deve far pensare appunto al discorso che facevamo prima a quale potrà essere il nostro futuro. Beh, in fondo noi siamo una società tecnologica, abbiamo creato una tecnica e tecnologia incredibili. diciamo che siamo apparentemente un popolo molto, 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 molto avanzato apparentemente nella scienza. Però in questa situazione ci siamo mostrati molto fragili in realtà. è bastato poco perché le nostre fragilità come società uscissero facilmente. Ecco, e allora se siamo così fragili abbiamo bisogno di riflettere, di pensare su un altro modello di economia, no? E su un altro modello di rapporto con la natura, perché qui è forte ed è fortissimo la connessione tra quello che è successo e il nostro rapporto con la natura. Abbiamo pensato di dominare la natura senza che potesse mai succedere nulla. In realtà non funziona così. È esattamente il contrario. Dobbiamo prenderci cura della natura per far sì che degli equilibri vengano mantenuti. E questo è molto, molto, molto importante. Hanno perso questa connessione con la natura? L'abbiamo persa, sì. L'abbiamo completamente persa. E penso che queste sono delle conseguenze di questa perdita, no? E noi abbiamo inventato tante cose, tecnologia, abbiamo ingegno, cosa, ma in realtà siamo fragili. Non abbiamo pensato che stiamo distruggendo la natura che abbiamo, no? La stiamo completamente distruggendo e queste cose sono dei segnali, degli squilibri talmente forti che hanno preso il mondo intero. E questo penso che il nostro approccio debba cambiare. è un'occasione, un'opportunità, potrebbe esserla, per cambiare il nostro rapporto con la natura. È importante riprendere il rapporto uomo-natura, cultura-natura. Sono due cose strettamente integrate. E con quali altre varietà auto-octrine lavori? Io lavoro con altre varietà auto-octrine, sempre della zona di Castelvenere, quindi in provincia di Benevento, che si chiamano Grieco, tra i vitigni bianchi, Grieco, Cerreto. Ci sta poi tra invece i rossi la Camaiola e ci sono altre varietà nella zona che io non ho, che però i vecchi contadini hanno conservato. Mi piacerebbe recuperare anche quelli, no? Proprio perché penso che la diversità genetica non è solo un patrimonio di diversità genetica e quindi di maggior adattamento all'ambiente, ma è un patrimonio culturale dei luoghi, perché l'agricoltura è un'agricoltura dei singoli luoghi. Non esiste un protocollo tecnico che si adatta a qualsiasi posto e a qualsiasi luogo in agricoltura. Ogni luogo ha la sua cultura, ha il suo modo di fare agricoltura. L'importante è che sia un'agricoltura sana e un'agricoltura rispettosa della terra, delle piante e dell'uomo. Un'altra domanda di tu, più forte questa domanda, che dopo aver superato questa moda di vini naturali, continueranno questi vini sinceri? Continueranno questi vini sinceri? Dopo aver espulso gli opportunisti? Ah, opportunisti in questi modi. Sì, diciamo, questo è vero, questa domanda è insidiosa, come si dice, è una domanda difficile. È vero, i vini naturali hanno, diciamo, avuto il merito, la voglia, soprattutto che tanti piccoli agricoltori e vignaioli hanno deciso, ma senza mettersi d'accordo con l'uno sull'altro, di lavorare senza chimica, in vigna, e senza tutti gli additivi e la tecnologia brutale che si utilizza in cantina. e quindi ha iniziato a far conoscere al mondo che si può lavorare anche in modo diverso. È vero però la cosa che dice l'ascoltatore che qualsiasi fenomeno che inizia a espandersi, inizia a diventare importante, diciamo, può diventare di moda. Questo è sicuramente il pericolo, come è successo col biologico, poi, col biologico generico. Su questo è vero, bisogna, dobbiamo mantenere, diciamo, l'attenzione alta, perché ci sono molte aziende che non hanno mai fatto naturale, che si possono inserire nel circuito del naturale. ovviamente se queste aziende cambiano completamente il loro modo di guardare all'agricoltura va benissimo. Ecco, se per loro fare vini naturali può essere uno stimolo e li può sollecitare a lavorare e essere più rispettosi della terra è una conquista. È una conquista. Però è vero anche che il discorso della moda può sempre prendere piede, insomma, e lì bisogna bisogna stare attenti. Due domande, se è possibile vivere soli con 4 hectare e dopo io faccio la domanda quanto costano i tuoi vini, la bottiglia dei vini in Italia in un negozio? In un negozio. Allora, sì, si può vivere. Il vino, diciamo, ha la fortuna di essere che rispetto ad altri prodotti agricoli ha acquistato un valore maggiore. Allora, questo ci permette di vivere abbastanza bene insomma. Non ci arricchiamo, ecco, questo sicuramente non ci si arricchisce, ecco. Però ci si permette di vivere. Questo è uno. C'è un altro elemento oltre a vivere felici perché questo è un punto fondamentale. Per me è stato fondamentale. Io ho lasciato uno stipendio fisso di quando lavoravo in laboratorio per un'esperienza nuova per me e che non sapevo come sarebbe andata. Ma sono ora, sono felice, lo sono stato, ci sono stati momenti difficili, soprattutto gli inizi sono stati molto complicati ed è stato complicato fare vini in questa maniera perché il mercato era completamente diverso. Però quello che non apprezzo è la propria felicità. Il fatto di arricchirsi. Io mi sono molto arricchito interiormente questo rapporto con la terra e con la natura mi ha molto arricchito. Il rapporto con la terra è incredibile, ti fa crescere soprattutto e ti fa capire molte cose. Per esempio anche l'utilizzo del tempo che il tempo è una cosa anche ricorrente nei nomi dei miei vini. E io quando ho iniziato a fare il vignaiolo ho riscoperto il valore del tempo del tempo lento. Se tu pensi ai cicli della terra ai cicli delle piante che sono cicli lenti e devi entrare in questo ritmo della terra e cosa che e questo l'abbiamo perso e abbiamo abbiamo anche e l'abbiamo perso anche dal punto di vista scientifico abbiamo perso questi ritmi abbiamo velocizzato tutto però perdendo una parte di noi in questo percorso. Che cosa hai fatto esattamente nella industria? Allora io sì io lavoravo precisamente lavoravo con due aspetti in laboratorio lavoravo e lavoravo mi interessavo di coltura in vitro di tessuti e cellule vegetale e di microbiologia degli alimenti quindi sicurezza alimentare diciamo e il punto è che mi sono accorto che guardare la natura i microrganismi le piante da un laboratorio è uno sguardo finto non è uno sguardo vero è uno sguardo finto non è uno sguardo non ti accorgi della realtà della natura di come funziona veramente no? e diciamo la prova di questo è il fatto che l'industria ha iniziato a fare agricoltura con agenti esterni alla terra quindi con con la chimica con i concimi con i pesticidi eccetera se pensi che io quando metto un concime nella nella terra semplifico la terra no? semplifico la nutrizione delle piante abbiamo appunto fertilizzato i terreni con questi concimi rendendoli non più fertili perché la fertilità non è quella che io aggiungo ma è una fertilità della terra che si produce dalla terra stessa in questo abbiamo degli esempi fantastici che sono le foreste e i boschi i boschi dove l'uomo non ci mette mano producono il loro producono delle biomasse incredibili che permettono anche a noi di vivere su questa terra soltanto con l'energia gratuita del sole gratuita e con e con i sali della terra che loro stessi producono loro stessi producono con la decomposizione delle sostanze delle foglie dei legni che producono grazie ai microrganismi pensa che molti e questo ci fa capire l'importanza di questi microrganismi che lavorano insieme alle piante insieme all'ecosistema gran parte degli elementi minerali che servono alla pianta vengono liberati dalla roccia madre dai microrganismi stessi e sono loro che li trasformano in una forma assimilabile per le piante quindi è questa complessità che noi dobbiamo su cui dobbiamo lavorare e purtroppo qui la la scienza non l'ha fatto tanto ecco questo è noi in realtà non avremmo bisogno di meno scienza avremmo bisogno di più scienza ma una scienza che rispetti le leggi della biologia e le leggi della vita che rispetti la fisiologia delle piante che studi e osservi la microbiologia del terreno la fauna del terreno che vada a cercare negli angoli del mondo tutte le varietà più diverse possibili immaginabili che noi possiamo recuperare che portano con sé e questa potrà essere anche in futuro rispetto al discorso dei cambiamenti climatici la nostra forza tutte le vecchie varietà portano con sé un patrimonio genetico e probabilmente un serbatoio di riserve genetiche che probabilmente ci serviranno per adattarci all'ambiente lavora con altri prodotti nell'azienda o solamente il vino no solamente il vino mi piacciono molto le piante aromatiche tanto è vero che un ultimo vino che ho fatto che tu non hai assaggiato quando sei venuto che si chiama fuori rotta e in cui ho messo le mie varietà grieco e cerreto come facevano i greci a macerare nelle erbe aromatiche che io amo tanto quindi parliamo di timo all'oro rosmarino ed è venuta una cosa particolarissima che è molto molto particolare è un vino da fine pasto potremmo dire o addirittura da inizio pasto da aperitivo per aprire perché è un vino che apre lo stomaco oppure fa digerire in maniera molto questo è il bella ciao questa è l'agostinella questa qui ed è questa è 2017 ha fatto 25 giorni di macerazione sulle bucce fermentazione spontanea poi ha fatto un affinamento lungo in botti di ciliegio e acacia ed è un vitigno estremamente particolare questo e questo invece è il fuori rotta quello che ti dicevo la novità è appunto siccome amo molto le erbe aromatiche mi sono un po' visto studiato come facevano i greci per loro conservavano i vini mettendo tutte piante aromatiche all'interno dei vini quindi diventavano diventavano vini molto particolari mettevano il timo l'alloro il rosmarino eccetera e io ci ho messo tutte queste varietà ci ho messo timo alloro rosmarino mirto bacche di mirto e foglie di mirto ci ho messo un po' di menta ci ho messo della maggiorana e poi ci ho messo delle erbe delle piante delle erbe aromatiche come come cannella chiodi di garofano e e e zenzero quindi e e niente è uscito questo vino che insomma è molto particolare insomma quanto costi questi vini? allora questo allora la gossinella all'enoteca diciamo all'enoteca costa intorno ai 20 euro però dipende un pochino dalla dall'enoteca dalla ristorazione eccetera e questo viene intorno ai 24 euro invece questi qua benissimo bisogna venire adesso a Brasile e questi vini bisogna essere qui nel mercato brasiliano mi fa molto piacere venire in Brasile che non ho mai visto penso che sia splendido il Brasile ecco è un paese che mi ha sempre affascinato moltissimo insomma buono grazie grazie a te Beto grazie 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 di tutto un abbraccio abbraccio ciao ciao ciao